iniziamo la nostra ricetta io utilizzerò fave fresche sia più giovani che un pochino più mature vanno bene entrambe pertanto il primo passaggio che andremo a fare è semplicemente quello di separare il baccello dalla fava ed ecco fatto una volta pulite li andiamo a bollire per circa 3 4 minuti questo passaggio ci permetterà innanzitutto di buocerle anche se non troppo di rimuovere con più facilità la pellicina esterna e rimuovere eventuali impurità le possiamo scolare e le mettiamo in una ciotola con dell'acqua fredda adesso con un po di pazienza dovete separare il contenuto interno dalla pellicina semplicemente effettuando una leggera pressione una volta separate ne mettiamo la metà all'interno del bicchiere da frullatore queste che avanzano le andiamo semplicemente a condire con un giro di olio mentre in queste dentro al bicchiere mettiamo il pecorino un giro d'olio e mezzo mestolo di brodo questo a persona io sto facendo i passaggi per una persona quindi regolatevi in base a quante persone siete semplicemente poi con il frullatore andiamo a frullare il tutto ed ecco fatto questa è la consistenza che deve avere molto morbida non abbiamo aggiunto sale perché ovviamente c'è il pecorino se volete potete aggiungere un po di pepe o di peperoncino questo in base ai gusti passiamo adesso al guanciale fettine da circa mezzo centimetro senza cotenna che andiamo a tagliare semplicemente in listarelle torniamo sui fornelli tegame dove successivamente cuoceremo il riso e facciamo rosolare il guanciale lo cuociamo per circa 5 minuti dopo di che lo andiamo a togliere una volta cotto lo andiamo a sollevare con una schiumarola così da lasciare il grasso nel fondo della padella facciamo riscaldare nuovamente il tegame e aggiungiamo il riso e lo facciamo tostare per almeno 2-3 minuti adesso lo andiamo a coprire con il brodo mi raccomando deve superare il riso di almeno mezzo centimetro e continuate la cottura fino a quando il riso non si scopre in superficie il riso come vedete si è scoperto lo andiamo a coprire nuovamente e procediamo la cottura come in precedenza perfetto il riso si è scoperto nuovamente ed è anche cotto quindi lo andiamo a spengere aggiungiamo la crema di fave le favette se volete ne potete lasciare qualcuna per il decoro finale metà del guanciale e il resto del pecorino e adesso andate a mantecare il tutto ecco fatto giusto un minutino il nostro risotto molto cremoso è pronto possiamo quindi impiattarlo e mettere sopra il resto delle fave e del guanciale così abbiamo concluso questa gustosissima ricetta dai provate anche voi a farla e fatemi sapere come vi viene bene